Tamponi effettuati, 232.674.000 più 10.706. Tamponi positivi, 63.094 più 941. Terapia intensiva, 1.032 meno 42. Decessi, 11.608 più 231. Ricoverati non in terapia intensiva, 11.356 meno 687. Dimessi, 39.098 più 1.439. Passiamo poi invece a quelli che sono i dati suddivisi per province. Abbiamo sempre ovviamente sui casi positivi, como 2.233 più 79. Abbiamo alcuni dati che possiamo giudicare dati migliorativi come i dimessi, come le terapie intensive. Abbiamo ancora tanti decessi, quindi noi dobbiamo dire chiaramente che siamo in piena ancora in fase 1, cioè noi siamo ancora nella fase dell'epidemia. Se noi rispettiamo queste regole è molto importante perché riusciremo ad abbassare sempre di più il tasso del contagio. Prima scendiamo con il contagio, prima e più entriamo nella fase 2. Quindi la fase 2 dipende da quanto noi saremo capaci di rispettare queste regole e di rallentare nel modo più forte questa epidemia.